Tanta forza di volontà, ma soprattutto l'amore per il territorio che li circonda. Così, sul lago di Endine oggi, una decina di volontari armati di sacchetti blu e pinze hanno percorso i 16 km del perimetro lacquale per recuperare i rifiuti gettati da passanti e non. Un'azione di solidarietà ed altruismo, ma anche un messaggio di sensibilizzazione nel rispetto dell'ambiente, volto all'intera comunità del lago. Sostanzialmente sono pacchetti di sigarette, sono mascherine, bottiglie di birra, lattine. Già tre anni noi facciamo il giro del lago e ripuliamo e non troviamo tantissima roba. Nell'ordine due o tre sacchetti di immondizia piccoli. Ultimamente, da quando è stato post-covid, a questo punto ha richiamato parecchia gente e abbiamo trovato parecchie immondizie a lungo tutto il pericolo del lago. E quindi io ho cominciato con mia moglie dalla zona, quando riguarda San Felice, Monasterolo e Spinone, ma a quel punto non riuscivamo più da soli. Quindi ho coinvolto i vicini. L'obiettivo è di creare una vera e propria collaborazione a partire dalle amministrazioni del territorio fino ad arrivare a coinvolgere diversi enti e realtà. Questa iniziativa ha svegliato molto la sensibilità dei sindaci perché ci hanno fornito i sacchi, hanno appoggiato la nostra iniziativa, tant'è che il grosso del recupero l'hanno già fatto loro negli ultimi dieci giorni. Sicuramente poi nel tempo collaboreremo con qualche associazione locale, alpini piuttosto che protezione civile, in modo tale da coprire una zona più vasta. Poi ci sono zone poco accessibili, lungo la statale, che anche quella è molto sporca. E li dovremo sentire sicuramente la collaborazione da parte dei sindaci. Nel gruppo anche giovani e giovanissimi, come Giada e Margherita di 24 e 12 anni, che con grinta vogliono dare il buon esempio ed invitare anche i loro coetanei a tenere un comportamento lecito e rispettoso dell'ambiente. Quando mi ha proposto questo andiamo puliamo il lago, gli abbiamo detto subito sì sia io che i miei genitori, anche perché comunque giustamente uno va a passeggia e non piace vedere cartacce, mozzicone e sigarette. Io spero che nel vederci la gente smetta di lasciare anche solo i sacchetti, perché quando vieni fa il picnic puoi prendertelo e portartelo a casa. Ci sono i bidoni che sono vuoti, proprio accanto ai bidoni lasciate lì la spazzatura. Non ci vuole molto alzarsi e metterla nel cestino. È proprio brutto vedere la sporcizia per terra, quando molto semplicemente puoi buttarla nel cestino. Voglio che come io l'ho fatto, lo facessero anche loro, i miei figli, i miei genitori, mio fratello, perché è più bello vedere il lago pulito.